Favorevole anche perché ho due bambini e entrambi sono stati vaccinati sia con le vaccinazioni obbligatorie che con quelle facoltative. Ad interrogarsi sulle nuove norme e sui vaccini sono i genitori che fanno parte del comitato Aretino, nato in realtà per la questione menze scolastiche. Il tema del vaccino sì, vaccino no lascia sempre importanti dubbi. Non posso fare un'accusa a chi vaccina e chi non vaccina. Rispetto un'opinione e secondo me dallo Stato oltre che fare una legge ci deve essere a questo punto una sensibilizzazione sul problema. Il cittadino chiede dunque di essere più informato e sulla possibilità di andare a togliere al genitore la podestà genitoriale piuttosto che sulla multa. Le opinioni sono divergenti. Anche perché se si va poi a quel punto a sospendere una patria potestà su un tema che è vaccino, allora dobbiamo poi analizzare su quali altri temi può essere a quel punto sospesa la patria potestà. Secondo me è giusto perché alla fine se un genitore mette al mondo un figlio deve prendersi anche le responsabilità. Se te non te le vuoi assumere è giusto che lo Stato prenda i suoi provvedimenti. Non vorrei che il fatto di pagare una multa dia la scappatoia a qualcuno che magari paga la multa e continua per vicace a non vaccinare perché in quel caso non avrebbe capito l'opportunità positiva che gli si dà dando la possibilità di vaccinare le persone. Secondo me la vera sfida è essere come cittadini più consapevoli ma soprattutto pretendere dei vaccini sicuri, testati, anche più costosi però che magari abbiano percentuali ancora più basse di problematiche nel momento che li si fanno. Esistono, costano più cari, costa più cara la ricerca che c'è dietro che sono tutte cose che spaventano un po' lo Stato italiano di solito.